Sarà il comune di Lecco a pagare il biglietto dell'autobus al posto dei suoi cittadini under 18. Ti porto io il nome dell'iniziativa di Line Lecco che ha già riscosso successo tra i giovani. 1.800 richieste quante sono state già consegnate? Ne abbiamo già consegnate 700. Noi prevedevamo intorno ai 450 utenti, studenti, che richiedessero l'abbonamento di libera circolazione per studenti. E' chiaro che con quei numeri siamo molto molto superiori. Probabilmente si sta facendo breccia e si sta facendo presente l'opportunità di utilizzare il mezzo pubblico rispetto all'auto privata. L'iniziativa partirà dal 1 settembre, prima dell'inizio della scuola. Come vi organizzate rispetto all'emergenza sanitaria? Intanto faccio un appello, dico a questi giovani che hanno questa tessera di non usarla prima del 1 settembre, perché correrebbe il rischio di essere sanzionati. Giusto per evitare questo. Poi, l'emergenza sanitaria. All'emergenza sanitaria stiamo valutando ancora col prefetto e con gli organismi preposti che tipo di servizio andremo a fare. Stiamo ancora attendendo comunicazioni ufficiali a questo riguardo. Molto probabilmente bisognerà avere il Green Pass. Come vi organizzerete a livello pratico per controllare il QR Code? Non lo sappiamo ancora. È abbastanza difficoltosa un'operazione del genere, perché comunque rallenterebbe sicuramente la marcia. Io mi auguro una cosa sola, che tutti riprendano a salire sull'autobus. Vorrei che venisse affezionato l'utente all'autobus, che è tranquillo, che è sicuro. Noi abbiamo avuto il controllo NAS, siamo stati riconosciuti a posto per il protocollo Covid. Non ci sono stati riscontri Covid sui nostri servizi. Quindi speriamo che l'utente ne usufruisca sempre di più del mezzo pubblico. Quindi a favore del Green Pass, visto che sarà un metodo ulteriore per evitare contagi, almeno sull'autobus. A favore del Green Pass, Green Pass permette due cose. Evitare contagi, che è la prima cosa, la cosa più importante. E la seconda cosa che il cittadino usufruisca al mezzo pubblico, sì.